Per quanta paura possa aver provato, questo è il momento più spaventoso di tutti. Auguri papà, è un maschietto. Ho sempre creduto in quella giusta. Ma essere tuo padre mi sta cambiando. Per lei mi sono trasferito in un quartiere ricco e senza anima di San Francisco. Andiamo a farci un cappuccino. Per lei avrei sposato il mostro, sua madre, Love. Cosa potrebbe andare storto? Noi, entrambi, abbiamo fatto brutte cose. Volevo venire a vivere qui così che potessimo ricominciare. Noi siamo solo i carini, normali, vicini della porta accanto. Siamo una squadra. La migliore. No, 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 così non va. Quindi ora, o te, le cose andranno diversamente stavolta. C'è sotto qualcosa, sei sempre distratto. Stai bene, sembri più palido del solito. Credo che dovremmo fare terapia di coppia. È successo prima del previsto. Immagino che il matrimonio non sia fatto per i segreti. Non esiste alcuna privacy a Madre Linda. Sei ossessionato da lei? Perché non mi ami più? Stai tremando qualcosa, lo sento. Perché tutti pensano che io sia impulsiva? Tu non mi spingerai a uccidere nessuno! Nessuno dei due ucciderà il coniuge. Siete molte cose, ma non sarete mai assassini. Non mi è mai capitato di pensare a cosa accade dopo che un uomo conquista una donna. Siamo una squadra, ok? Finché morte non ci separi. Finché morte non ci separi.